Dopo i comuni maggiori della zona rossa Castiglione d'Adda con 59 persone positive al test e Codogno con 29, il comune più colpito si trova nella zona gialla Cremona con 22 per gli intensi rapporti con l'inlodigiano. Secondo i dati della regione, aggiornati alle 17 di ieri, i casi positivi in Lombardia sono 403. Negli ospedali sono ricoverate 213 persone, delle quali 172 non si trovano in terapia intensiva e quindi potrebbero essere dimesse e guarite nel giro di pochi giorni. In terapia intensiva ci sono 41 persone, i deceduti sono 14. Su 4073 tamponi eseguiti, solo 1 su 10 ha dato esito positivo. La stragrande maggioranza, ben 7 su 10, non hanno preso il virus, mentre di 2 su 10 si attende l'esito. Il coronavirus, statisticamente, dimostra di non avere molte preferenze, risparmi a bambini e giovani fino ai 24 anni, tranne casi molto rari, ma colpisce tutte le fasce d'età, dai 24 in su più gli uomini, il 63%, che le donne. Considerando la ripartizione per province, la prima è Lodi con il 39% dei casi, ma al secondo posto c'è Cremona con il 23%, seguita da Bergamo col 18%. Tra i comuni più colpiti ci sono i centri principali della zona rossa, Castiglione Dadda con 59%, Codogno con 29%. Al terzo posto c'è proprio Cremona con 22% per i suoi intensi rapporti con la zona rossa, davanti alla Lodigiana Casal Pusterlengo e alla Bergamasca Nembro con 19% ciascuno, poi Crema con 10%. In proporzione al numero di abitanti, Soresina spicca con 8 casi, seguita da Castellione con 6, ai confini con la zona rossa ma in zona gialla, Pizzighettone ne ha 4, sesto 3. I comportamenti dei comuni divergono, alcuni danno anche via social tutte le informazioni in loro possesso sul numero dei casi, altri preferiscono tenere un profilo basso. Dei due casi di spinadesco, ad esempio, si è saputo solo grazie alle statistiche regionali.